Ciao a tutti e bella gente, il vostro Catacore è qui con voi con BioShockInfinite! Yeah! Ho ancora i cappelli dello scorso video perchè lo sto facendo di fila, quindi... Sono esattamente al punto dove mi ho fermato nel quarto gameplay Quindi questo qua è l'inizio del quinto E bene, vediamo dove c'è l'antana Ok, di qua... Poi... di qua... Ma che cazzo mi fa andare? Su! Aha! Attacchiamoci! Oh yeah! E mo... e mo scendo qua! A parte che tutti vogliono apriremo il cranio I sacchetti ho aperto e io ho il cranio Però mi equipaggio la bomba Ecco ne va Perfetto Pe... 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 Corpo a corpo sono troppo forte Però ho notato che nel corpo a corpo la barriera appena ti colpiscono va via Quindi potrebbe essere un problema Ok via Ok via Yeeeh Che... che be... come è bello quello che gioco qua tra l'altro? C'è una garza cadena madonna E non so neanche al massimo perché quando lo registro dovuto abbassarla un po' figlio Non mi immagino a bordo Fermatevi! 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 Fia che pacchino vi ammazzavo tutti Che hai attraversato il Delaware con spada fiammeggiante ali d'angelo Sceglia su di me e dammi forza Padre Washington ascolta la mia preghiera Boh Vabbè non mi attacco Our prophet Dica So perchè sei venuto falso pastore ed ogni peccato che era mal anima Tira la leva e non lo parla al palo Wounded knee La Pinkerton Il bere il gioco da stargo E ovviamente Un po' più lento sta bagaglia fatta tra l'altro E ora Per ripagare un debito Sei qui per il mio agnello Oh Ma non tutti i debiti si possono ripagare Tu moro Non mi conosci amico La profezia è il mio mestiere Te uccideva tutti Sai perchè questi uomini morirebbero per me Non è che morirebbero stanno morendo Questo è il loro futuro nella gloria E quindi Sono solo No no non mi vedo più Cosa ti ha portato a Columbia Booker Portaci la ragazza e cancelleremo il debito Come fa a sapere Ma A pensarci bene Finisce sempre Tutti i morti No Sempre nel sangue Oh Cosa è successo? Sei venuto per traviare il mio agnello Ma il tuo bastone è storto e la tua vita contorta Torna alla Sodoma da cui sei venuto Si 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 Infiariamo sul cadavere Vabbè basta Ehm Ehm Andiamo di qua Ma Ma che cazzo ma Colpo Skyline Colpo Skyline Si Ma questa è una donna Allora ti uccido così Si 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 Ho decapitato una donna Quante sono violento Trovare i comandi per portare questo coso a Monument Island Allora c'è andato di qua Vediamo se c'è qualcosa qua Non mi sembra assolutamente Quindi andiamo 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 Apri sta porta E' tutto ok Non ti farò del male No Dai No No Siediti E andrà tutto alla grande Ma dai ma Boh Boh Questo gioco ha perso tutto in questo pezzo qua Ma non copandolo perchè fa schifo Non si possono uccidere fuori Ma che cazzo te Che gli passano a traverso i colpi Ma f*** Ok Posso far funzionare questo Oh Ciao pastor Allora Ma io sono solo una locale Oddio dove è andata Non sono obbligato Amen 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 Suora di merda Suora di merda Suora di merda Che cazzo fa Un fanculo Suora di merda Guarda che non si poteva uccidere Salta giù Siiii Skyline 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 Ah siamo arrivati Gira 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 A ver che ando ok Uh Entra Monument Thailand Complicato Vabbè non ho 1000 e non ho niente da comprare Entra Monument Thailand Siiii B Be Oh Non cazzo fa che Mi è partita la visuale Mmmh Mi chiedo perchè la vieno rinchiusa qui Ah quindi le ragazze da sopra ok Ah, ok Sì, lo più lontano possibile Yeah Un psiafono da solo, ovviamente Ma voglio la pistola, ok, più fino Un voxafono Un portafoglio Allora non c'è più niente E qua non c'è niente E qua dove c'è La schiavania Caffè La spiano tutto il giorno Mentre fanno finta di non sapere Che cosa sta facendo A questo posto Tiro la rega Age 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 11 Age 4 Companion Age 13 Menardie Non so cosa sia Cosa ho fatto Ah ma Allora andava avanti Vabbè Quale pot sia Con sempre Cosa c'è qua Un altro voxafono Vabbè Ascolt Ok capo Signore Mi ha chiesto Di registrare Per il profeta Qua sono tutto Al massimo Qua Bella sta serie Bella Bella Apre Cosa hanno fatto Negretto Vabbè Qua non c'è Niente Qua Una camera oscura Oh Senti Storica Cos'è la radio Si spegni Boh Andiamo Un altro voxafono Che cazzo Solo voxafono Ci sono Un altro voxafono Immaginare il proprio futuro È una cosa Vabbè Andiamo Di qua Dono attagge Spaziali Per l'avvento Del signore Ma sarà Elisabeth A gettare Mi sta chiamando Sento il suo amore In ogni tumore In ogni tumore Mazzolo Che era la leva Bello Bello Eccola 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 Busa Ciao Ma non mi vede Penso di no Sono tipo Quei vetri Che si sono In prigione Per i matti No Quando No Quando fai gli torga Torga Ci vede attraverso Ma non Ma come cazzo Si chiameranno Non lo so Dov'è Dining room Sala da cena Vabbè Sala da pranzo Ah Questa leva Cioè Ti ho Questa leva Ciao Com'è Frega Tra l'altro Hello Immagino Che gli piaccia Pagli Cosa Sta facendo Eh Cosa 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 Succes Cosa Cosa Fosse Non ha Niente A che Vedere Col Lavoro Già Ha Aperto Tipo Un vacuo Spazio Temporale Per Vedere Parigi Un'altra Vocafola Ma non Ho voglia Tiriamo La leva Sarà Non posso sparare Tipo All'interno Più facile Sì Lo so Dove Dai Open The door Fuck yeah Senza Zit Porca vacca Porca vacca Sì Dai Ci siamo Quasi Ci siamo Quasi Oh oh Ciao Che cazzo Vuoi tirare i libri Ciao Non sono qui per farti del male Chi sei Ciao Mi chiamo The Wit Sono un amico Un amico E che cazzo sta arrivando Perché Non ti conviene essere qui quando arriva Solo un minuto mi sto vestendo Posso portarti via Non c'è via d'uscita Credimi Basta Sei troppo impaziente Basta così Cosa sta succedendo Questa Di chi si tratta Questa La velocità No Ma che stai Dammela Ha la chiave che aveva trovato nella scatola all'inizio È bella sta stato È un'uscita Ma Devo lasciarmi aperta la porta Fuggi dalla statua Ah bella Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Basta No 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 Guarda Corri 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 Che diavolo è quella cosa No Fra che ho giotto una buona eh si ma è per anti sfondamento guarda si direi che è anti sfondamento e chiamati ma ti spari se non si si spari spari oh dio oh dio oh dio mamma mamma eh l'ho notato quant'ansia ma si ma che ma fai della palestra oh io sono una mano oh dio ma cos'è quel bagaglio lì dai le avete un po' di sprint però eh boh boh oddio oddio si yuhuu oddio dove stiamo andando dov'è quel uccellaccio l'ha tra l'altro è sparito bene no non ho trattato oh non capisco più niente eccolo eccolo eh guten non capisco troppo la ora no adesso non non no giro se no non tu ti Oddio Secondo me non è stato molto contento l'uccellaccio Dove cazzo siamo adesso? Ciao Ciao Eccola Ho vinto ho finito il gioco Cosa volete fare di lei? Anna Gente a casa Ma che cazzo è Anna? Perchè mi chiami Elisabetta? No sono io Elisabetta Sarei potuto star mai il suo battagio da due milioni di metri? Ecco Lascia che Sto bene Sei quasi annegato Hai bisogno Ho detto che sto bene Dammi Soltanto un minuto La senti? Ah per me puoi anche star là Noi siamo volati giù da un milione di metri Siamo terrati in acqua e non ci siamo fatti niente Perché del cazzo non ho più in Italia Però vabbè E niente bella gente Questo episodio finisce qua Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace E iscrivetevi alla mia pagina facebook anche se non l'avete ancora fatto E soprattutto a questo canale Ciao a tutti bella gente Ci ci vediamo nel prossimo gameplay